Il Movimento 5 Stelle aveva sostenuto da tempo che alla fine si sarebbe arrivati con lo Sblocca Italia a impiantare un inceneritore in Abruzzo. La cosa è diventata realtà con la pubblicazione del decreto, anche se Regione Abruzzo ha sempre detto che in virtù di un accordo con la Regione Molise si potrebbe utilizzare l'impianto molisano per l'incenerimento. L'assessore Mazzocca deve dimettersi, secondo noi, per manifesta inconsistenza politico-amministrativa. Il Movimento 5 Stelle, in più di un'occasione, ha chiesto l'approvazione del nuovo piano di gestione dei rifiuti che scegliesse la linea del solo recupero materia, escludendo in tutti i modi l'incenerimento. L'assessore Mazzocca e questa giunta non hanno fatto nulla. Dell'altro ieri è il DPCM che ci dice che è confermata la presenza di un inceneritore nella nostra Regione. A Mazzocca non resta che dimettersi. Perché non è stata eliminata la possibilità di impiantare un inceneritore in Abruzzo? Dai documenti leggiamo che inizialmente nella bozza di decreto che noi annunciamo ad agosto, di decreto attuativo dello Sblocca Italia, erano previsti 11 inceneritori in 11 regioni. Tre regioni, Liguria, Piemonte e Veneto, hanno modificato il piano regionale di gestione dei rifiuti e sono usciti da questa bozza. In queste regioni gli inceneritori non si faranno. Questo era quello che abbiamo chiesto a Mazzocca e che Mazzocca non ha fatto. Che cosa si può fare adesso? Si può votare no al referendum costituzionale. La grande battaglia che noi abbiamo fatto contro lo Sblocca Italia, che secondo noi era incostituzionale perché violava delle competenze regionali, adesso si sposta nella riforma costituzionale dove di fatto lo Sblocca Italia è stato costituzionalizzato. Per cui se vogliamo combattere inceneritori, petrolizzazioni e questa deriva oligarchica nei confronti appunto dello Stato e questa spogliazione di competenze delle regioni a favore dello Stato, dobbiamo votare no al referendum costituzionale.